Il Mille Periferie è stato presentato questa mattina a Palermo, presente anche il Vice Ministro per le Infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Si parte dai 120 progetti finanziati dallo Stato con il bando Periferie, oltre 2100 interventi in 445 comuni con una previsione di investimenti sopra i 2 miliardi. L'obiettivo è quello di costruire un unico grande programma nazionale per la riqualificazione anziché tanti progetti sconnessi. La rete Mille Periferie si struttura come una piattaforma che opera online, si qualifica come un e-cluster al servizio degli operatori pubblici e privati. Si creerà inoltre il Mille Periferie Fest che sarà strutturato come una messa in rete dei principali festival nazionali e internazionali dedicati alle periferie fisiche e culturali, compresi gli eventi e gli interventi multidisciplinari previsti dai progetti finanziati dal bando, presentandoli così in un'unica piattaforma divulgativa. Mille Periferie attiverà anche l'osservatorio nazionale delle periferie per animare il dialogo propositivo sulle tematiche di sviluppo urbano dei prossimi anni. Nello specifico promuove la nascita di nuovi strumenti opportunità tra cui la strategia nazionale aree periferiche in parallelo con quella delle aree interne che punta sulla creazione di città inclusive. Un altro obiettivo è quello di sostenere lo sviluppo di strumenti finanziari per la riqualificazione delle periferie. Oggi oltre il 90% dei fondi immobiliari per oltre 30 miliardi di euro riguardano investimenti nelle regioni del centro nord.